Si svolgerà il 17 novembre presso la Casa della Cultura di Atrani l'evento Eno Gastronomico Un Mare Divino, rientrante negli appuntamenti della terza edizione di Stelle Divine Festival del Mediterraneo. Ideato dalla storica dell'arte e giornalista enogastronomica Anna Maria Parlato, Un Mare Divino nasce per valorizzare le ricchezze enogastronomiche della dieta mediterranea e il patrimonio storico, culturale, turistico, creativo da Atrani e dalla costa d'Amalfi sino al Cilento.